l'appetito è un bellissimo prodotto l'appetito come potete vedere è a base solo di ingredienti naturali della genziana centaurea fieno greco allora questo prodotto ha due funzioni la prima funzione è quella di avere all'interno delle sostanze amare come la genziana e la centaurea che stimano sulle nostre lingue ci sono dei recettori stimolano i recettori posti sui lati della lingua e creano saliva quindi la saliva crea bisogno di cibo quindi noi stimoliamo una maggiore richiesta di cibo andando a dando delle sostanze amare per stimolare l'appetito per esempio in tutto il mondo faccio un esempio banale tutto il mondo si adesso di gran moda l'aperitivo ok perché l'aperitivo perché l'aperitivo prima del pasto perché l'aperitivo è nato come uso di sostanze amare per prepararci al cibo la stessa cosa abbiamo fatto noi con sostanze adatte ai bambini che stimoliamo in primis la voglia di cibo andando a stimolare la salivazione per secondo il bambino che non mangia che non ha appetito non ha forza quindi non ha un bambino che non ha energie e un bambino che non può avere appetito allora nel secondo momento gli diamo delle sostanze nutrienti che aiutano subito ad essere corroborate aiutano subito ad avere energia quindi energia e stimolo dell'appetito insieme quindi come tale abbiamo creato un prodotto che fa stare subito bene il bambino ma bambini anche io non più tardi di dieci giorni fa c'era la mia colp che ha un ragazzino di 12 anni che era molto stanco non mangiava più gli ho dato appetito dopo due giorni ha ripreso a mangiare e tutta la squadra di calcio football team del bambino hanno preso appetito perché erano tutti stanchi e quindi essendo stanchi non riuscivano più a mangiare quindi bisogna dargli le sostanze che vanno stimolare la salivazione è una sostanza che danno vigore che danno nutrienti ma senza appesantirli perché se le appesantisci non mangiano più quindi stimolare e corroborare attivare l'energia attivare la domanda di cibo insieme e quindi questi due concetti insieme e quindi questo prodotto è un prodotto semplice ma veramente fittace attivate a a